quinto giorno di preparazione pre campionato all'adriano capraresse siamo con luca sparvoli il miglior bomber lo spoltore della scorsa stagione ciao luca ciao a tutti ciao costa come tornare a respirare l'aria del calcio dopo quasi sei mesi di assenza è sicuramente la sensazione bellissima che mancava non solo a me ma a tutto l'ambiente e penso non solo all'ambiente spoltore ma tutti i ragazzi che praticano questo sport da ogni fascia di età fino ad arrivare alle prime squadre infatti ieri poi dopo allenamento abbiamo visto anche i ragazzi del tiki taga che insomma fremevano per cominciare l'allenamento infatti è stata una bellissima bellissima scena parco attaccanti completamente rinnovato a spoltore tranne chi tranne luca sparvoli è una bella soddisfazione nel senso che poi dai vuol dire che qualcosa di buono è stato costruito non dico soltanto in campo ma anche fuori dal campo penso essermi sempre comportato bene con con tutti e quindi diciamo che è una cosa una cosa che fa piacere so che siamo le prime battute ed è anche prematuro parlarne però da giornalista questa domanda la devo fare questo trio d'attacco sai d'antonacci sparvoli questi in questi primi giorni sembra subito essersi messo in mostra ma simone antonacci lo conoscevo già avendoci giocato già più volte contro sapevo insomma la caratura del giocatore si vede che è un bel giocatore di categoria soprattutto saeed ne parlano moltissimo molto bene di insomma di questo ragazzo si vede insomma che ha una grande struttura che ha una grande forza e sì ci stiamo ambientando mi auguro che sia questo poi il trio che il mister mandrà in campo sì comunque per chi ci guarda ogni tanto qualche giocatore ride perché comunque qui c'è un anti rivieni e comunque lo sfotto e anche fa parte anche del calcio e quindi giustamente sono distratti i giocatori che andiamo a intervistare ultima battuta luca questo sportore quest'anno dove potrà arrivare ma sicuramente siamo una squadra giovane mister insomma è la sua prima esperienza con i grandi quindi non bisogna né volare troppo bassi ma neanche fare voli pindarici io penso che sia una squadra ben allestita con allenatore capace che ha bellissime idee io mi auguro che insomma tutto il gruppo riuscirà a portarle in campo nella migliore maniera possibile per fare insomma per raggiungere l'obiettivo uno degli obiettivi importanti che è quello dei playoff magari benissimo grazie mille luca e buon lavoro